C'è anche una delegazione della città di Acireale con in testa il sindaco Barbagallo, tra i partecipanti alle solenni celebrazioni in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Festeggiamenti dal sapore particolare, quest'anno per la Sicilia, regione scelta per offrire l'olio che alimenta la lampada votiva sulla tomba del Santo, con le chiese di tutta l'isola guidate dal presidente della conferenza episcopale siciliana e vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. 21 anni fa l'ultima partecipazione di una delegazione siciliana in terra umbra. Oltre all'olio verrà offerta una confezione simbolica di olio prodotto nel giardino della memoria come simbolo della lotta contro tutte le mafie, mentre il presidente della regione Renato Schifani donerà 20.000 euro per il restauro di due opere d'arte. Culmine della manifestazione, ricco programma di appuntamenti curati dalla regione dagli assessorati all'agricoltura, beni culturali e turismo denominati custodi di bellezza accendiamo la speranza. La solennità assumerà inoltre un significato speciale per Acireale con la consegna del premio rosa d'argento frate Jacopa a suora Alfonsina Fileti, istendosi per la costante opera a fianco di famiglie in difficoltà, minori a rischio e donne vittime di violenza nel suo impegno nella comunità Madonna della Tenda. E con grande emozione che rappresenteremo la nostra città ad Assisi, dichiara il primo cittadino a Cesare Roberto Barbagallo. La figura di San Francesco a me è molto cara e incarna i valori di fraternità, umiltà e cura. Sarà un'occasione di confronto e riflessione importante per impegnarci a costruire una società migliore, più giusta e solidale.